Credo che avremo un pochino meno possesso rispetto alla partita con l'Albania perché loro fanno di quel loro punto forte, quindi sicuramente ci sarà da essere più attenti in fase difensiva e anche se poi magari in fase difensiva lasceranno un pochino più di spazio perché l'altra volta abbiamo trovato una squadra che si è praticamente chiusa a 90 minuti, quindi è stato anche più difficile creare le occasioni. Dovremmo essere bravi a sfruttare quelle che ci arriveranno attraverso il gioco, quindi un pochino questo, stare più attenti in fase difensiva perché ne faremo sicuramente di più ed essere bravi a sfruttare le occasioni che ci lasceranno. Credo che soprattutto in questo momento senza far troppi giri di parole la Spagna individualmente sia avanti rispetto a noi, quindi dovremo mettere in campo quello che è lo spirito italiano, quello che ci accompagna da tantissimi anni, quello di saper soffrire, di saper lottare e poi speriamo di poter vincere. Però questo secondo me è fondamentale perché se la mettiamo sui duelli uno contro uno è una partita difficile, molto difficile. Se invece la mettiamo sotto il profilo del gruppo, dello spirito, del sacrificio, credo che riusciremo a fare una grande partita. C'è stato un esempio che poi è stato anche con il mister che è per Rotta. Più recentemente c'è stato Marchisio, quindi questi sono più o meno i due modelli che ogni tanto mi guardo per capire meglio anche le posizioni e i movimenti perché comunque si può sempre migliorare. Per quanto riguarda la Spagna credo che Roteri sia al momento il centrocampista più forte del mondo.